Alleluia, 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 Alleluia Dal Vangelo di Gesù secondo Luca In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ormaiato di belle pietre e di doni motivi, Gesù disse Verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta Gli domandavano, Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per a chiedere? Rispose, badatevi non lasciarvi ingercare Molti infatti verranno del mio nome dicendo Sono io e il tempo è vicino Non andate dietro a loro Quando sentirete di guerra, di rivoluzioni Non vi terrorizzate Perché prima devono avvenire queste cose Ma non è subito la fine Poi dicevano loro Si solleverà nazione contro nazione e regno contro rinno E vi saranno diversi luoghi e terremoti, carestie e pestilenze Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi al cielo Ma prima di tutto questo Metteranno le mani su di voi E vi perseguiteranno Consegnandovi alle sinagome e alle prigioni Trascinandovi davanti al re e governatore A causa del mio nome Avrete allora occasione di dare testimonianza Mettetevi dunque in mente Non preparare prima la vostra difesa Io vi darò parola e sapienza Così che tutti i vostri avversari Non potranno resistere né controvare Sarete traditi perfino dai genitori Dai fratelli Dai parenti e dai manici E uccideranno alcuni di voi Sarete odiati da tutti A causa del mio nome Ma il mio capello del vostro capo Andrà per lui Con la vostra perseveranza Salverete la vostra vita E' parola del Signore Linguaggio estremo abbiamo sentito Che tecnicamente si dice apocalittico Che non vuol dire di distruzione Ma di rivelazione Un linguaggio anche di paura Per quella radice di distruttività Che conosciamo bene Che è dentro di noi e nelle cose Ma è tanto diverso il discorso di Gesù Da ciò che accade oggi Guerra, pandemia, paure 149 conflitti armati in atto nel mondo E' così diverso Da vent'anni fa Con le torri gemelle E le guerre esplose a ruota In giro per il mondo Davvero ci sembra un linguaggio strano Se guardiamo a quarant'anni fa Ai tempi del terrorismo in Italia A quello che si diceva allora Questo per dire Che non è della fine del mondo Che il Vangelo parla Ma del mistero del mondo Non la fine del mondo Ma il fine Della mia vita Non la fine del mondo Ma il mistero del mondo Dobbiamo però Ascoltare Il respiro Il ritmo profondo Di queste parole E ci accorgiamo Che ad ogni immagine Di fine Di distruzione Spunta il germoglio Della speranza Quando sentirete parlare Di guerre Di rivoluzioni Non vi spaventate Non è la fine Sarete traditi Uccisi Odiati Ma nemmeno un capello Del vostro capo Andrà perduto Vi saranno segni Nel sole Nella luna Nelle stelle Ma voi risollevatevi Alzate il capo La liberazione E' vicina Vedete che bello Ad ogni descrizione di dolore Segue un punto Di rottura Dove tutto cambia Quasi un parto O un tornante Che apre l'orizzonte La breccia La feritoia Della speranza Non vi spaventate Non è la fine Neanche un capello Risollevatevi Il mondo Non finirà Nel caos Ma in un abbraccio Non finirà Nel fuoco Di una guerra atomica Ma nella bellezza Come abbiamo pregato All'inizio E al di là Dei falsi profeti Al di là Di guerre E tradimenti Ecco quella espressione Struggente Neanche un capello Del vostro capo Andrà perduto Che il Vangelo di Matteo Ha raddoppiato così I capelli del vostro capo Sono tutti contati Non abbiate paura Esagerato Apocalittico Cioè rivelatore Esagerato forse Ma così bello Il niente dei capelli Per dire che qualcuno Mi vuole bene Frammento su frammento Fibra su fibra Lacrima su lacrima E lo sai Che niente È insignificante Della persona La quale vuoi bene Dio salva E salvare Vuol dire Conservare E tutto sarà Conservato Ogni passero Ogni capello Ogni filo d'erba Ogni bicchiere Di acqua fresca Tutto ritroveremo In Dio Nulla Andrà perduto L'altra parola forte Oggi È la perseveranza Il non mollare Il tenere duro Il primo aggettivo Con cui è descritta La Chiesa di Gerusalemme Erano perseveranti Nell'insegnamento Il primo aggettivo Con cui sono descritti Gli apostoli Dopo l'ascensione Del Signore Perseveranti Nella preghiera Sulla terra Intera E nel piccolo campo Dove io vivo Si scaricano Ogni giorno Rovesci Di falsità Di bugie Di fake news Di violenza Cadono piogge corrosive E io Che cosa posso fare? Prendermi cura Di un metro quadrato Di vita Io devo usare La tattica del contadino Rispondere Alla grandine Piantando nuovi fruttetti E per ogni raccolto Di oggi perduto Perseverare A prepararne uno nuovo Per domani Seminare Piantare Attendere Perseverare Vegliare Sulla vita che nasce Ecco la perseveranza Ogni volta Ogni volta Che vai fino in fondo A un'idea A una intuizione A un servizio A un servizio Tu sfoci Una opposizione Una disgiunzione Rispetto a prima Ma voi alzate il capo E allora niente cristiani depressi Per favore Ma risollevati In piedi A testa alta Occhi alti Liberi occhi Profondi occhi Perché così Vede i discepoli Il Vangelo Sollevate il capo E guardate Lontano E oltre Perché la realtà Non è solo questo Che ci appare Viene continuamente Uno Esperto In nascite Una poesia Una poesia di Clemente Regora Dice Mentre il creato Ascende In Cristo Al Padre Nell'arcana Sorte Tutto E doglia Di parto Quanto morir Perché la vita Nasca Il mondo È un immenso Pianto Una doglia Ma è anche Un immenso Parto Questo mondo Porta un altro Mondo nel grembio E noi ce ne prendiamo cura Di un metro quadrato Di pace Di armonia Di bellezza Di servizio Di generosità Verranno giorni Nei quali Di quello che vedete Non resterà lasciato A pietra su pietra Non c'è nessuna cosa Che sia eterna Ma l'uomo Sì È eterno Un giorno Non resterà Pietra su pietra Delle nostre Magnifiche costruzioni Delle piramidi Millenarie Della magnificenza Di san pietro Ma l'uomo Resterà per sempre Frammento Su frammento Nemmeno il più piccolo Capello Andrà perduto È meglio Che crolli tutto Comprese le chiese Comprese le più artistiche Piuttosto che crolli Un solo uomo Questo dice il Vangelo Un solo figlio di Dio E l'uomo E l'uomo Resterà nella sua interezza Dettaglio Su dettaglio Perché abbiamo Il nido Nelle sue mani Ma poi Finale Quando il Signore Verrà Troverà ancora Fede sulla terra Sì Io lo credo Troverà Fede Magari non troverà Le parrocchie Magari non troverà Le unità pastorali Non troverà La chiese Ma la fede Sì La fede Di quelli Che credono Che l'amore È più forte Della cattiveria Che la bellezza È più umana Della violenza Che la giustizia È più sana Del potere E che questa storia Non finirà Nel caos Ma dentro Un abbraccio Dentro la forza Di un abbraccio Che a nome Dio 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 Che a nome Dio